Buongiorno, navigatori accesi. Sì, si può fare. Ed è solo la punta dell'iceberg di una città malata, di una città senza progetti, senza idee, di una città senza dignità, così come è amministrata. Amministrata senza dignità e senza consapevolezza di cos'è una città e di cos'è la vivibilità in una città. Potete vederlo qui, in queste breve sequenze di immagini, tutto in doppia fila. Ora, adesso sappiamo che ci sono problemi molto più grandi per la C-Reale, ma vogliamo vedere e vogliamo mostrare queste immagini come esempio, come punta dell'iceberg, come cartina di tornasole del degrado. Lo sviluppo per i commercianti accesi e per la loro poca lungiminanza è quello di sostare continuamente in doppia fila tutte le mattine, tutti i giorni della settimana, creando problemi ai cittadini e certo non risolvendo quelli loro. Bene, nessuno interviene e guardando Piazza Europa, Via Piemonte, Via Lombardia, tutte le altre strade intorno e altre ancora, è tutto un caos di lamiere. Io considero questo veramente una vergogna assoluta. Buona giornata, navigatori accesi.